Buonasera, buonasera a tutti i film del Sulmona Cinema Film Festival e benvenuta alla serata conclusiva del trentesimo Film Festival. Cerimonia di premiazione al Cinema Pacifico sabato 8 dicembre a conclusione della trentesima edizione del Sulmona Cinema Film Festival. L'oviglio d'argento per il miglior film è andato a The Shine of Day di Tizzacovi e Renner Frimmel per l'elegante contaminazione tra osservazione del reale e messa in scena funzionale, un film che si distingue per l'armoniosa esplorazione di un delicato universo emotivo. Premio miglior regia ad Antonio Morabito, perché cos'è un manrico? Nella motivazione della giuria si legge che il premio è stato assegnato per la capacità di testimoniare l'intimità di una relazione attraverso uno sguardo complice, partecipe e mai invadente. Il premio per la migliore interpretazione femminile è andato ex equo ad Anna Bellezza e Matilde Giannini, protagoniste di Acciaio di Stefano Mordini, per la sorprendente spontaneità dimostrata davanti alla macchina da presa e la credibile interpretazione di una fase delicata dell'adolescenza. Il film vincitore si è giudicato anche la migliore interpretazione maschile, con Walter Sabel, per l'equilibrio dimostrato nell'interpretare un personaggio embilico tra realtà e finzione. Inoltre è stato assegnato il premio Soundtrack, miglior colonna sonora. La giuria, composta da Susanna Buffa, Renato De Maria, Luigi Locascio e Gabriele Luca Antonio, curatrice della sezione negli anni scorsi, l'ha assegnata a Zend Music per The Golden Temple di Enrico Masi, film che nella veste di documentario affronta temi di ampio respiro e coinvolge emotivamente nella trama più di finzione. La colonna sonora fa parte di questo discorso plurilivellare, compiendo in pieno il suo ruolo funzionale, risultando per cui quasi ideale nel suo essere al contempo discreta e compatta. La serata è proseguita con l'omaggio a Carmelo Bene e con un movimentato dopo Festival al Charlie, che ha chiuso in bellezza un'edizione che, anche se ha riscontrato problemi tecnici per l'inadeguatezza della sala, è stata ricca di buon cinema.